in questi giorni su instagram vi ho posto una domanda quale treno scegliete il treno del successo o il treno del denaro e devo essere sincero che davvero in tanti mi avete risposto il treno del successo il che non ha fatto altro che rendermi molto felice di questa cosa ovvero avere delle persone che la pensano nello stesso modo mio ovvero puntare a migliorarsi puntare al successo e non soltanto ai soldi ma bisogna capire attentamente una cosa se realmente abbiamo preso il treno del successo o se stiamo percorrendo il treno del denaro e non ce ne siamo ancora resi con questa è una domanda che io mi sono fatto veramente da tantissimi anni e ancora oggi sono alla ricerca di determinate risposte perché è un argomento molto molto delicato proverò a spiegarvelo secondo il mio punto di vista e secondo le mie esperienze personali bisogna cercare di capire delle differenze fondamentali la prima differenza fondamentale è il treno del successo è quel treno che ti costringe a dover studiare sempre in continuazione a rinnovarti a cercare il prodotto migliore il più costoso perché ti deve permettere di portare il miglior risultato possibile il treno del successo è quel treno che per i primi mesi i primi anni sei costretto a sacrificarti magari te stesso le tue esigenze per portare a termine un progetto e per portare a termine questo progetto hai bisogno anche di un grande team di una grande collaborazione quindi inizia andare alla ricerca di persone competenti affinché ti aiutino e credano insieme a te in questo progetto il treno del successo da treno che a fine mese non guardi ciò che hai all'interno della cassa e dire ok questo mese ho guadagnato tot ma è quel treno che a fine mese la prima cosa che guardi sono gli errori che hai compiuto e questi errori ti permettono nel mese successivo di migliorarti e di perfezionarti sempre di più e quel treno che nel momento in cui decidi di intraprenderlo è una filosofia di vita è un modo di essere non solo nella tua vita lavorativa ma anche nella tua vita privata cambi il tuo modo di approcciare con le persone cambi il tuo modo di vedere totalmente le cose cerchi di prendere come spunto sempre chi è migliore di te e bisogna apprezzarle per quelle che fanno e non bisogna mai essere gelosi per quello che loro sono diventati queste sono le regole principali per prendere il treno del successo una strada molto più lunga rispetto a quella che vedremo del treno del denaro infatti prendere il treno del denaro ti porta a delle scelte che sono magari risparmiare su uno staff non qualificato magari sotto il punto di vista dell'organizzazione del credere in quel progetto la strada del denaro è quella strada che non hai tempo di studiare perché sei sempre concentrato a cercare quello che costa di meno perché sprechi le tue energie il tuo tempo soltanto a cercare il prodotto che costa di meno da offrire al tuo cliente quindi non si è concentrati sul lavoro da applicare non si è concentrati sul progetto da portare a termine non ci si aggiorna non si cerca un metodo alternativo per superare magari un periodo di crisi a fine mese la prima cosa che si va a guardare è l'incasso rendersi conto quando si è incassato per poter poi successivamente ridurre le spese e cercare di avere un guadagno maggiore il mese successivo il treno del denaro inoltre ci fa guardare gli altri in modo minaccioso guardiamo gli altri in modo anche geloso vediamo magari chi lavora meglio di noi e diciamo vabbè quello c'ha fortuna vabbè quello è perché è raccomandato perché magari gente non capisce nulla e quindi non ci chiediamo realmente il perché quella persona sta lavorando diamo la colpa a tutto il mondo che il mondo è contro di noi ma se un mondo intero è contro di noi non può essere che forse siamo noi che siamo contro il mondo e stiamo guardando in modo sbagliato le cose questo è la strada del denaro la strada che ti porta nel tempo a un continuo fallimento hai magari inizialmente delle grandi entrate ma successivamente entri in un vortice che ti porta a un risparmio continuo a cercare di risparmiare su tutto e su tutti fino ad arrivare all'osso finale dove purtroppo non c'è più nulla da tagliare se non la testa di chi ha scelto questo treno da questo possiamo iniziare a capire se stiamo intraprendendo il treno giusto se abbiamo fatto la scelta giusta professionale nella nostra vita la cosa sicura è che nel momento in cui decidiamo di intraprendere il treno del successo prima o poi anche se ci vorrà molto sacrificio e molto tempo treno del successo si incontrerà con il treno del denaro perché il sacrificio lo studio continuo ci premiano sempre grazie per la visione un saluto da jacopo reggine e al prossimo video